Gentili telespettatori, buona giornata. Il Parlamento chiede una commissione di inchiesta sul degrado di Roma. Il degrado di Roma va avanti da un bel po' di anni. Vi ricordate c'era la sindaca grillina, la raggi, il vento del cambiamento e non è cambiato proprio nulla. Poi è arrivato il sindaco chitarrista del PD, Gualtieri, ex ministro dell'economia del PD e a Roma non è cambiato niente. Ed è la capitale dove ci sono i quartieri governativi, i ministeri, i centri nevralgici del paese. Eppure Roma è sotto gli occhi di 600 parlamentari, di 68 membri del governo, della Presidenza della Repubblica, dei comandi generali delle forze armate. E Roma è sempre la stessa. Non si riesce a farla diventare una città europea. Roma è una città bellissima, bellissima, che è sotto una cappa di degrado dalla quale non si riesce ad uscire. Qualcuno dice a Professor, ma tu non hai visto che c'è tutta l'Italia che concia così? Eh, non tutta. Non tutta. Ci sono zone e zone. Anche all'interno della città metropolitana di Roma ci sono zone e zone. Ci sono zone dove per terra non trovi niente, né un pezzettino di carta. Ci sono zone invece dove trovi montagne di spazzatura e degrado. Quindi anche Roma è a macchia di leopardo. Bersani sarebbe lì a tentare di smacchiare il leopardo. Comunque, Roma è una città meravigliosa, dicono, ma amministrata male. O addirittura impossibile da governare. Ma no, amici miei. Atto terzo. Roma non può essere impossibile da governare. Mi stupisce che il presidente del Consiglio Meloni, che vive a Roma, non riesca a far cambiare questa città. A farla diventare perlomeno una città normale, come tutte le città europee. Non so. Non può Roma diventare come Zurigo, come Berlino, come Parigi, come Madrid. No. Dobbiamo vergognarci. C'è la maestra di mio figlio che dice, ah, sto andando a Roma, a Pasqua. E io dico, ah, che bello. Faccio un giro in Europa. Madrid. Facciamo anche tre giorni a Roma. Uh, uh, che bello. E in mente mia ho pensato, oh mamma. Oh mamma, 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 mamma. Oh mamma. Ha detto, chissà quando scenderà a Roma. Speriamo che la portino direttamente davanti al Colosseo a vedere quanto è bello il Colosseo, senza vedere quelli che vogliono fare le foto, quelli che vogliono fregargli. insomma, speriamo che non veda il degrado romano. Speriamo quello. Sennò che figura, che brutta figura. Lei contenta di andare per la prima volta a Roma, dico. Eh, eh sì. Comunque, anche io sarò a Roma adesso per venti giorni. E sinceramente ho un bel programma, mi sono fatto tutto un programma, devo andare a vedere un sacco di cose. Ma realmente un po' mi spaventa questa cosa del degrado. Stessa cosa sto pensando anche di Milano. Non ho in, non ho in programma di andare a Milano, però da quello che si è sentito in questi giorni, l'avvicinarsi alle stazioni. Vabbè che io l'ultima volta che sono stato alla stazione Termini, l'anno scorso, sinceramente ho visto nei portici di fronte la stazione. Quando voi uscite dalla stazione, a sinistra ci sono dei portici. Sono andato lì a prendermi un caffè con un barista molto simpatico lì in un bar. Non mi ricordo come si chiama. Perché i romani sono simpaticissimi, guarda. Bisognerebbe clonare i romani, metterli dappertutto in Italia, perché sono... Io che ho girato l'Italia in lungo e in largo, vi posso dire che i romani, so Ermeio, sono simpaticissimi, veramente... Il romano ha anche un modo di fare che per chi abita in un'altra zona d'Italia si può anche offendere, no? Perché a volte il romano ha un atteggiamento un po' che se uno è molto permaloso ci rimane male, no? Vi faccio un esempio. Sono andato a mangiare una pizza con due persone che sono su YouTube, no? Due persone che voi conoscete, che hanno dei canali abbastanza importanti su YouTube. E questo signore, ragazzo, non so come chiamarlo, ormai siamo tutti signori ragazzi, ragazzi e signori, mi ha detto... Mi ha chiesto una cosa. Io gli ho detto, vuoi che te la racconti? E lui, eh! Cioè, subito ti fa... Eh! Però quando capisci che è proprio un certo modo di fare, non te la prendi più. Inizialmente uno ci può rimanere un po' male, però vi dico che le persone a Roma sono eccezionali, eccezionali, eh! Magari a volte sono un po' scorbutiche, no? Ti rispondono un po' che tu dici... Ma come me parli? Però poi capite che è proprio un modo di fare, non c'è cattiveria, è proprio un modo di fare. Vabbè, comunque sia, io, usciti da stazione centrale, no stazione centrale, da stazione Termini, Terminus, no? Da Termini, sotto i portici, ho visto tante persone che dormivano sotto i portici, di questo palazzo bellissimo, antico, più avanti, sotto i portici, dopo i portici c'era per terra, ma non lo so, c'erano spazzatura, sacchetti svuotati della spazzatura... Insomma, io quello che ho visto, dentro la stazione Termini non ho avuto problemi di nessun tipo, non mi ha avvicinato nessun, nessuno sballato, nessun balordo, no? Sono amico di tutti, non ho visto, non ho visto, non ho visto balordi, sarà stato l'orario, che ne so, però intorno alla stazione diciamo che un certo degrado c'è. Non ho intravisto io personalmente pericolosità, vabbè che erano le 11 del mattino, non ho intravisto io segnali di pericolosità, però posso immaginare che quando fa buio, quando cala il sole, comincia a diventare un po'... ecco, questo c'è in tutte le grandi città al mondo, però insomma, non è il mio passaggio a Termini di mezz'ora che può dire è o non è, sicuramente la città ha bisogno di essere rivoltata come un calzino, perché la nostra carta d'identità Roma è la carta d'identità del paese, non possiamo avere una carta d'identità concia in questo modo. Grazie a tutti e arrivederci a presto.